Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova rivela. Oggi avrò di rivelazare questo progetto. Ho comprato questo progetto per guardare un video da mio iPhone che puoi attaccare a qualsiasi dispositivi che vuoi e l'ho vorrei mostrarlo in questo video. Ho comprato questo progetto dal sito TomTop che è un sito bello che puoi trovare tutti i tipi di cose ma sono davvero valori, quindi guardate, nella descrizione ho il link. Puoi vedere che questo progetto non ha alcuna marca, non è Sony, Apple, Epson. Questo è il problema di questo sito, non troverai alcuna marca ma questo è il trucco per ottenere itemi molto valori. In realtà questo progetto costa solo 70$ che suona una buona cosa davvero buona per questo tipo di dispositivo elettronico. Ok, arriviamo all'unboxing. Ok, dentro la box possiamo vedere il progetto. È bianco, luce, molto bello. All'interno puoi vedere il porto, c'è il cardo SD, il HDMI, l'infraredo, il sensore, il jack output, il video in, l'infraredo, c'è anche, sull'interno, il porto USB e il VGA e anche il connettore di potenza. Nella fronte, la lente, e poi c'è anche un altro porto infrared. sull'interno, il ruolo del focus e i bottoni. Poi nel bagno c'è il cable, ovviamente. Anche, è molto importante, questo progetto può essere portato con l'elettricità americana di 110V e anche l'elettricità europea che è 220V. Quindi è compatibile con l'elettricità di tutto il mondo. Quindi è buono perché il mio progetto era di comprare questo progetto per usare nella mia prossima viaggio in Europa e è abbastanza piccolo per mettere in un bagno. In box abbiamo anche il controllo remoto e il cable per video in. Il giallo è il video e il rosso e bianco è l'audio. Anche c'è questo screw che ti permettono di muovere il progetto per aggiungere l'immagine. Se vuoi usare l'iphone come dispositivo bisogna questo cable. Questo cable è abbastanza costo. Spendo 50 dollari per il cable. Il cable costa quasi più che il progetto. Ok, facciamo un test. Ho impostato il progetto in mio cinema room. Ho attaccato il connettore all'iphone e al connettore all'HDMI cable. L'HDMI cable è attaccato all'progetto. Facciamo un test. Ok, come puoi vedere l'immagine sul screen è abbastanza grande. Il progetto del progetto è di 120 inch in diagonale. Ok, cerchiamo tutte le funzioni che puoi avere. Colore. Il colore. Il modello di immagine. La riduzione. Puoi ridurre la dimensione di display. Puoi cambiare. Il modello di immagine. Se puoi progetto dal top, dal top, dal top, dal topo, dal topo. Puoi ridurre la dimensione di immagine. Poi c'è il suono, il clock, la lingua. Puoi aggiungere la lingua che bisogna. Qui puoi vedere la connessione. Puoi avere HDMI. o SD, o computer, o VGA. Ok, questo è tutto per questa review. Cliccate la descrizione. Il progetto costa solo 70$ e ci vediamo dopo per una prossima rivoluzione. Ciao! Ciao!